Ciao, buongiorno a tutti, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube Notizie Non Click. Oggi sono in compagnia della psicologa Carida e il nostro dir politico che ormai conoscete, Alessandro Zorniotti. Mi viene da sorridere perché, e poi lascio la parola, perché abbiamo invertito i ruoli nel dettaglio. Di solito Alessandro mi chiama dall'Albania e io rispondo dall'Italia. Oggi io sono a Durazzo e Alessandro è a Torino e oltretutto la psicologa Carida è a Roma ed è albanese, quindi qui non si capisce più niente, la globalizzazione. Buongiorno Carida, benvenuta e buongiorno Alessandro. A voi la parola. Buongiorno. Buongiorno. Notizie Non Click e anche notizie in movimento perché in questo momento sono in movimento, assolutamente. Benissimo, allora la nostra protagonista è una psicologa e si occupa di... Ecco, io faccio la classica domanda aperta o se magari voi volete prendermi la parola e condurre quella che è poi la nostra chiacchierata. Chi prende la parola sia il benvenuto. Va bene, mi presento allora. Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Clarida Rapaes, sono una psicologa, una criminologa a Forense e una vittimologa. Lavoro presso l'Università e Campus qui a Roma. Inoltre ho un Master di specializzazione di comunicazione secondo il metodo psicosociale della Gestalt, inoltre sono un'esperta nel GDSA e poi sono molto impegnata nel sociale che poi magari durante l'intervista vi spiegherò un po' più nel dettaglio. Allora, io ringrazio Clarida di questa grande opportunità di aprire il Capodanno con lei perché lei arriva subito dopo il Presidente Mattarella che ha dedicato il messaggio di fine anno 2023, inizio anno 2024 al tema della violenza di genere, al discorso del concetto dell'amore come dono, come altruismo, come armonizzazione della libertà propria con quegli altrui e non come possesso violento e prepotente. Sono parole bellissime e io pensando a Clarida ho subito con riferimento a Mattarella e mi sono detto che la psicologia e l'alleata in più della lotta contro la violenza di genere. Quindi sono molto contento che l'impegno di Clarida apra questo 2024 praticamente assieme al nostro amatissimo Capo dello Stato Mattarella che vorrei ricordarlo e anche un grande amico dell'Albania. A te la parola Clarida una riflessione sul discorso di Mattarella e sugli strumenti che poi Loredana interverrà, dopodiché come lei ama dire parlando di me io mi taccio leopardianamente, gli strumenti che la normativa italiana dovrebbe applicare e inserire per recepire le raccomandazioni di Mattarella. A te la parola Clarida e grazie. Prego, allora parto dal presupposto comunque che gli strumenti in Italia ce li abbiamo, le leggi ci sono, ma quello che io vedo nel mio lavoro e quello che io guardo comunque in varie associazioni in cui intervengo manca l'educazione sociale, c'è un problema anche culturale. Allora mi spiego un po' meglio Alessandro perché come ho già detto all'inizio le leggi ce le abbiamo, abbiamo il codice rosso, a volte c'è qualcosa da prefezionare perché manca qualche passaggio importante nel senso che quando una donna denuncia un stalker, quando una donna denuncia una violenza diciamo che passa un po' di tempo o magari a volte non viene presa in considerazione per il semplice fatto che è la prima volta che succede una cosa del genere. Quindi su questo tasto va molto migliorato. Per quanto riguarda invece la problematica che io parlo della veramente è una cultura sociale ma anche una cultura che in qualche modo la persona porta dal paese d'origine nel paese dove si trasferisce. Cioè qui mi fermo un pochettino e spiego proprio nel dettaglio che cosa vuol dire. Allora io prima di andare nel dettaglio spiego un piccolo intervento che faccio nelle scuole perché sono molto impegnata anche nelle scuole per quando riguarda il fenomeno del bullismo e cyberbullismo. E vedo già nelle scuole la problematica proprio dell'inserimento per quanto riguarda l'integrazione proprio dei bambini. Perché questo? Perché purtroppo che cosa succede? Che mentre l'adolescente, quindi prendo l'adolescente ma anche il bambino che va all'asiedo dal primo anno dell'asino, quindi partiamo dai tre anni, in famiglia vive una cultura completamente diversa. Io qui non vado a elencare tutte le culture, però comunque vive una certa sua cultura di provenienza. Questa cultura che il ragazzino ha nella sua provenienza, quindi partono anche da un semplice cibo e lo porta alla scuola o all'asilo, qui che iniziano le difficoltà. Perché iniziano le difficoltà? Perché comunque manca anche attraverso gli insegnanti, attraverso gli educatori, un certo tipo di formazione. Vale a dire che cosa? Nel momento che c'è una problematica di un bambino, porto un esempio proprio molto semplicissimo, un bambino di tre anni che porta un determinato cibo a scuola perché nella sua cultura si utilizza, si mangia anche nella famiglia e gli altri bambini che sono molto incuriositi e vedono una cosa del genere cominciano un po' a ridere, a prendere in giro perché sono bambini. Qui il ruolo del lucatore è importante, prima di tutto, che cosa? Formarsi, questo ragazzino da quale cultura proviene, che tipo di cultura vive in famiglia, perché solo così può comprendere bene lo stato del bambino e può spiegare molto bene i ragazzi, i bambini. Quindi se noi all'interno delle scuole ci manca questo tipo di formazione, questo tipo di educazione ai bambini purtroppo lo porteremo nell'adolescenza, nella società di tutti i giorni perché parte dall'infanzia e se nella famiglia non c'è questa integrazione perché comunque sono famiglie magari che ci tengono la loro cultura o magari sono cresciuti così o perché loro va bene, però un bambino che viene inserito nella nostra società, nella nostra cultura, nelle scuole, va inserito come si deve e non si deve sentirsi diverso dagli altri. Quindi ci mancano le basi e io insisto molto per quanto riguarda questo perché le basi mancano dall'asilo. Inutile iniziamo nell'adolescenza, quindi già siamo oltre. Nell'adolescenza siamo sul bullismo, cyberbullismo, siamo in fasi diciamo molto più avanzate. Per quanto riguarda invece la violenza sulle donne, come ha detto anche il nostro amato presidente, ahimè purtroppo anche qui lo devo dire c'è una forte parte di, diciamo una parte di acconsenso, cioè vale a dire che che cosa, perché quando io vado nel, scusami se faccio una piccola deviazione ma ci tengo a precisare, quando io vado a parlare alle donne che subiscono violenza, che magari sono lì due anni, tre anni, quattro anni che hanno subito questa violenza e non riescono a uscirne fuori, la domanda che, le risposte che loro danno in base alle domande che faccio è ma dove vado? Che faccio? Purtroppo è una vergogna, sono abituato a questo tipo di amore che chiamiamo così e poi se parliamo di donne che vengono dall'altra cultura è proprio una vergogna parlare di questo tipo di violenza, quindi non è sufficiente solo le leggi per proteggere la donna, non è solo sufficiente che si mettono in atto comunque queste leggi, secondo il mio punto di vista, di quello che io vedo è contato proprio di persona, bisogna fare anche un'educazione e l'educazione, torno alla mia spiegazione iniziale, si inizia dall'asilo perché nel momento che un bambino gli si spiega che ti picchia, che quella non è amore, che se un bambino vede suo padre picchiare la madre può dire qualcosa anche se ha tre anni, perché? Perché quel bambino gli ha spiegato qualcuno alla scuola o all'asilo, io penso questo che bisogna comunicare, fare un'educazione nelle scuole, si è parlato qui in Italia di inserire comunque l'educazione sociale, è importantissimo, bisogna iniziare proprio dall'asilo, bisogna iniziare ai bambini che cos'è il rispetto, che cos'è l'integrazione, che cos'è l'inclusione, che cos'è la diversità, ma non a 10 anni, a 12 anni, a 3 anni quando si inizia dall'asilo. Io credo questo, Clarida se mi permetti, bisognerebbe che ci fosse una sorta di complicità, proprio alla buona, cosa significa? Perché se io faccio educazione, come dici tu, dai 3 anni in su, è vero che il bambino si educa, però poi va in conflitto da quello che dai 0 a 3 anni ha così vissuto nell'ambiente familiare. Tu prima dicevi dell'etnia e quant'altro, io purtroppo ho assistito ad un episodio di una mamma che voleva regalare una tuta da bimbo della sua nazionalità, di dovera, senza star lì a raccontare troppo le cose. Pensando di fare cosa gradita, regalando questo souvenir a questo bambino, la mamma ha detto assolutissimamente io questa tuta non gliela metterò mai, perché rappresenta un'etnia che non è la mia. Ed è brutta questa cosa qua, perché comunque sia il bambino manco sa, il bambino sa che ha una tuta in più, di questo magari compagno, compagna, che comunque sia, cioè invece la mamma si è preoccupata subito a turpare le ali. Io mi aggancio subito. Alla di là della xenofobia, per carità, perché ci sta, no? Ci sta e poi ancora. Però cosa puoi insegnare ad un bambino se già tu stessa rifiuti un regalo di questo genere? Quindi perché io parlo di complicità? Perché comunque tu insegna il tuo bimbo, la socializzazione, le etnie, che se il, che è buonissimo, il bambino albanese e italianizzato viene con il biurek e Dio solo sa quanto è buono, perché lo sto mangiando a Iosa, sperando di non imbirazzare e qui la chiudo, però si condivide il biurek con il bambino italiano che si mangia la pizza napoletana ed è bellissimo, ma se queste cose non si iniziano prima dei genitori, diventa poi difficile dal mio punto di vista, e poi mi taccio, ecco perché dico la complicità. Io qui mi intervengo perché comunque sono 4-5 mesi che sto collaborando con una comunità albanese che è composta anche da una comunità marrochina e all'interno di questa associazione, che sono tantissime donne, parlo proprio di questo, di integrazione, di cultura, di far capire che non è che perché rinunci alla tua cultura c'è qualcosa di sbagliato, bisogna sposare, bisogna integrare bene tutte e due le culture, perché comunque alla fine devi vivere bene. E purtroppo, Loredana, devo ammettere che ci sono molte donne giovani che portano ancora una cultura molto arretrata, vale a dire la cultura della disnonna, della madre, ancora oggi, anche se sono da dieci anni che vivono magari in Italia. Quindi non è sufficiente solo nelle scuole questo tipo di interventi, ma anche con le mame. E l'intervento che faccio io, proprio faccio di questo, parlo con le mame, le scuocere, per poter farli comprendere che cos'è la cultura, che cos'è la diversità, l'integrazione, la socializzazione e l'accettazione dell'altro. Quindi in questo caso della cultura, religione, qualsiasi cosa sia. È importantissimo perché non è sufficiente parlare solo con le donne, ma anche i uomini, perché la maggior parte dei uomini, anche questo è un problema, perché la donna non può andare a lavorare, è una vergogna, deve stare dentro a casa, che è solo crescere i figli e il ruolo suo è solo quello. Quindi per poter fare un cambiamento nella società, per valorizzare, io in questo caso non dico solo la figura della donna, ma valorizzare l'essere umano, bisogna intervenire in molti campi, altrimenti non possiamo cambiare la nostra società. Quindi non possiamo dare ai nostri figli, futuri, nipoti, un futuro diverso, perché vuoi o non vuoi si scontrerà con altre culture e se qualcuno glielo ha spiegato, sia dal dutto che ai genitori che sono dovuti trasferire da un paese all'altro, come fa a comprendere? Quindi rimangono sempre nel loro abito, nel loro cerchio e non c'è un'integrazione come si deve. Esatto, quindi complicità, complicità e tanta complicità, perché giustamente come hai detto tu, le leggi ci sono, però dobbiamo attuare, quella che non potrà mai esserci, la legge del buonsenso. Esatto, io vorrei dire anche un'altra cosa, nel momento comunque che c'è una denuncia di violenza, oltre comunque che si prenderà cura della donna in quel caso, secondo il mio punto di vista bisogna fare anche una ricerca verso la persona che usa violenza, essere presa in considerazione, perché no, anche da un psicologo, per vedere questa persona in che tipo, in che stato è, perché altrimenti poi la persona viene allontanata, la persona comunque viene messa il braccialetto e qui in Italia purtroppo ci sono stati casi anche di omicidio, anche quando la persona è stata allontanata, è stata in carcere o con il braccialetto. Quindi non va sottovalutato la persona che è stata denunciata e lasciato da parte, secondo me va comunque, va visto da un professionista, per vedere la, diciamo un po' la sua donna età, se è un genitore o sul marito o sul figlio o qualsiasi persona sia, però va visto, non va lasciato solo, perché bisogna anche fare prevenzione su queste persone che sono violente. Esatto, mi hai rubato la parola di bocca perché stavo appunto dicendo Ale che il discorso di fare una prevenzione, quindi il ruolo di Clarida in qualità di psicologa può fungere sicuramente da prevenzione, perché andare dopo potrebbe essere troppo tardi, quindi considerare la figura psicologa di Clarida, perché no, come un'amica e quindi confidarsi io vi ringrazio, colgo l'occasione per salutarvi per cause di forza maggiore e logistica, tendo a ricordare che purtroppo c'è un problema molto grave di violenza di genere in particolare in Kosovo, però devo dire che i leader balcanici di ultima generazione sono molto illuminati, basti pensare alla composizione maggioritaria femminile del terzo governo Rama, alla circostanza che la prima ministra della Serbia è donna, della comunità LGBT, che la presidente della Repubblica del Kosovo è donna, che la nostra prima ministra è donna e ha stabilito un'amicizia personale oltre che istituzionale col premier di Tirana, il sindaco di Tirana, Rionveli, ha nominato e riconfermato due donne nella carica di vicepresidenti della giunta comunale, quindi vice sindaco, quindi ci sono tutti gli strumenti culturali per cui questa nuova classe e dirigente partendo dal vertice riuscirà poi a incidere sulla società civile. Con questo io vi ringrazio e sono purtroppo obbligato a disattivare l'immagine per causa di forza maggiore trasportistica e auguro buon anno a voi e ai nostri video spettatori che seguiranno questa registrazione assieme a un contributo editoriale che sarà pubblicato sull'edizione di prima pagina di domani mattina. E noi continuiamo la nostra chiacchierata e mi viene da dire chi ti vuole contattare, come ti può e come ti deve soprattutto contattare, come sei reperibile? Allora io sono reperibile tramite il mio link, mio dottore su internet, quindi basta inserire il mio nome e cognome, quindi dottoressa Clarida Rapai, mi trova su internet, sui social perché anche sui social rispondo alle domande quando magari mi chiedono, però sicuramente tramite anche LinkedIn sono reperibile sui social, sono attiva perché vorrei dare comunque anche chi ci segue magari che sta passando un momento diciamo così di tristezza magari leggendo un post si può un po' sollevare o magari vedere diciamo il mondo sotto un'altra prospettiva. Diciamo che è impossibile quasi non trovarti e io ci tengo a precisare che a tutt'oggi nella zona riservata di notizie in click in prima pagina con la quale i nostri diciamo così ascoltatori, ascoltatori e rettori scelgono e diciamo che sei abbastanza scelta perché trovano interessante che cosa fai e chi sei, questo in estrema sintesi. Quindi detto questo che facciamo? Ci congediamo a... Io vorrei dire l'ultima cosa, per quanto riguarda lo sport, ecco vorrei che... Allora io faccio parte della federazione italiana Krav Maga che questa federazione si occupa per la difesa personale e faccio formazione ai maestri perché sono capitato del successo che molte donne che sono fatti vittime di violenza nel momento che sono entrati a fare questo tipo di palestra, chiamiamolo così, hanno diciamo avuto anche uno sblocco quando magari determinati movimenti che sono stati fatti nello sport sono aperti per quello che stavano subendo. Quindi lo sport è importantissimo, quindi questo ci tengo perché magari molte donne possono acquisire anche una sicurezza, quindi uscirne e fare comunque anche un certo tipo di sport, è importantissimo. Quindi questo ci tenevo perché tante donne sono state aiutate. Perfetto. Allora io al momento mi fermerei qua, ringrazio Clarida e Alessandro nel lettere, ma tanto so che ci segui, grazie per essere stati entrambi con noi. Grazie a voi. Ecco e lascio come dico sempre a te le ultime battute per i saluti finali. A te la parola Clarida. Io grazie per questo invito, per l'intervista. Quello che vorrei dire a chi ci segue, ai nostri telespettatori, quando tornate a casa, amate la vostra famiglia, quando tornate a casa, via le tecnologie e guardate i vostri figli negli occhi, la vostra moglie, mamma che avete, quindi più contatto e meno tecnologia. Questo mi viene da dire. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie. Grazie.